Non è bellissimo leggere sui giornali anche giudizi, secondo me, del tutto sbagliati. Credo che sono formulati senza conoscere profondamente il Presidente. Quindi il mio è un ricordo che resterà vivo. Oggi rispetto ieri, è chiaro poi il dolore resterà sempre, rispetto ieri però sono convinta che non sarà un qualcosa che... Lui mi mancherà fisicamente però resterà nei miei pensieri, in ogni mio pensiero. Grazie mille. Grazie a tutti.